Eeeh, hai stato vallerto tutto quanto, alzatevi, industatevi, la pigre di forcella sta qua, ogni giorno questa storia, per me l'avvocato Leone, il tempo è danare, questa storia deve finire, non si può andare avanti e indietro, avanti e indietro, manco diem rapide stamattina, buo, sbrighiamoci, spicciamo queste formalità, e sbrighiamoci, caccato, nimmo, gaffa, non come voi, ecco, facci, io sono una signora, una signora, va fa in culo, Ma che sono questi qua, facci nuove, nuovi arrivi come voi, e quando siete scoccianti, a voi vi dovrebbero arrestare ogni giorno una novità, ma quali sono queste novità, che è successo, che è stato, Raffaella Carrò che fa, ha sgravato, e con la cinque, che fa, l'hanno sparato il mucco, e il signore Mandalino ha avuto le sue cose, che facciamo volito a me, e tu che fai, sei tu davanti a una signora, alzati, 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 cretino, e fammi assaltare, non c'è più capace, 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 non c'è più